Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo La partita della vita. Spero dopo la condividerete a tutti su Whatsapp. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo La partita della vita perché noi viviamo intensamente molti attimi belli, gioiosi, che ci portano immancabilmente a donare tutti i veri sentimenti, quindi ad aprirci agli altri, a vivere in maniera densa, forte, propensa. Cerchiamo quindi persone riverenti che ci sappiano trasportare, ci donino dei momenti forti e ci sappiano offrire la fierezza della vita. La partita vera della vita è il conquistare gli altri con il buon atteggiamento, dimostrando di essere buoni, educati e tranquilli. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo La partita della vita. Viviamo intensamente molti attimi soavi che ci portano immancabilmente a donare tutti i veri sentimenti. Cerchiamo persone riverenti che ci sappiano trasportare nella vita e nei suoi momenti e pace ci sappiano donare. La partita della vita ha tante buone conquiste e con gioia sacra e convinta donano a noi buone speranze. Grazie e spero la condividerete a tutti. Arrivederci.